Il progettista del ponte prefabbricato è Jean-Bartelmé Polonceau, 1813-1859, inventore vulcanico capace di passare dalla progettazione minuta delle singole parti rotabili alla costruzione di intere locomotive, fino alla pianificazione della rete ferroviaria parigina. Polonceau fa dei punti di ferro l'elemento jolly delle costruzioni ferroviarie. Quando un ostacolo naturale sbarra il passo a un cantiere, Polonceau lo scavalca con un ponte di ferro. E ciò gli permette non solo di ridurre i tempi delle costruzioni ferroviarie e i loro costi, ma soprattutto permette al treno di arrivare in luoghi fino ad allora inimmaginabili, anche al di là del Tevere. A Roma si ricorre al ponte di ferro di Polonceau nel 1863, quando ormai il suo idiatore è defunto già da quattro anni. Ad utilizzarlo è la compagnia ferroviaria Casalvad, vincitrice dell'appalto di Papa Pio IX per la realizzazione della diramazione ferroviaria porta portese porta maggiore, la cui difficoltà costruttiva principale è rappresentata proprio dall'attraversamento del fiume Tevere tra la via Ostiense e l'odierno quartiere Marconi. Tra sponda e sponda c'è infatti da coprire una distanza di oltre 130 metri. La prefabbricazione del nuovo ponte avvenne in una fonderia inglese tra il 1862 e il 1863. Il montaggio viene operato a inizio 1863 da una società subappaltrice belga. Il tutto si svolge sotto l'occhio vigile degli ingegneri francesi della Casalvad e del committente romano, Pio IX, rappresentato in cantiere dallo scrupoloso Monsignor de Merod. L'impalcato a travate in ferro e ghisa misura 131 metri di lunghezza per 7,25 metri di larghezza. Al di sotto si aprono tre luci, delimitate da piloni tubolari poggiati in acqua, anch'essi in ghisa e riempiti di calcestruzzo. Al centro viene collocato un pontelevatoio, apribile, per permettere al di sotto il transito dei piroscafi e degli altri bastimenti merci diretti al porto fluviale di Ripagrande. La locomotiva di collaudo passa in colume sul ponte il 10 luglio 1863 e seguono un altro mese e mezzo di complesse prove di carico, in cui vengono fatti passare contemporaneamente due treni stipati all'inverosimile di materiali provenienti da direzioni opposte. L'inaugurazione avviene il 24 settembre 1863 alla presenza di Papa Pio IX e di Monsignor de Merod. Henri de Deville, corrispondente del Journal d'un Diplomate in Italie, così racconta quel giorno memorabile. Tutto avviene con una semplicità commovente. Non ci sono né padiglioni né bandiere né discorsi. Il Papa non ha fatto annunciare la visita. Alle quattro solo gli interessati, i quali sono stati avvertiti, si trovano riuniti. Prosegue. All'orario convenuto si apre la campata centrale per il passaggio di un vaporetto sotto gli occhi dei fotografi. Da quelle fotografie saranno tratte numerose stampe. Si fanno funzionare davanti a Pio IX i meccanismi. Quattro uomini, con sorprendente facilità, abbassano l'immenso ponte-levatoio sotto gli occhi dei presenti meravigliati. Monsignor de Merod, uomo di progresso e di iniziativa, corre da un gruppo all'altro e spiega il meccanismo del ponte, con l'ardore e la volubilità che sono del suo carattere. Finché, nella meraviglia generale, passa sbuffante il treno. Tutti circondano Pio IX. Donne, contadini e ragazzi s'arrampicano e scendono a precipizio sui tumuli erbosi, per vedere meglio e per poter raccogliere qualche briciola della conversazione del Papa. Un grande numero di stranieri e di turisti, che alla passeggiata nella campagna fanno fermare le vetture, incantati di trovarsi ad assistere a questo spettacolo.